Mancano poche ore alla finalissima e il grande fratello ha ideato un giochino per i VIP in cui questi ultimi devono dirsi le parole mai dette, con schiettezza e sincerità, pescando dalla propria urna un nome a caso a cui rivolgere un pensiero. Aida pesca Daniele e ricorda di come all'inizio non ci fosse feeling ma dopo l'esperienza della spa le cose siano cambiate, evidenziando come sia stato un bel momento vissuto insieme. Raffaello pesca Aida, a cui fai complimenti come donna ho apprezzato l'intelligenza con la quale tu vivi, perché tu fai ma non strafai, ridi, partecipi, ascolti ma non vai oltre il limite. Questo è sinonimo di grande intelligenza. Il nome di Raffaello viene estratto da Daniele, che sottile e alla grande stima nei suoi confronti ho adorato il modo in cui la tua mente lavora. Tu riesci a lavorare tutto ciò che accade in un modo così lucido. Quello che tu dici rappresenta la parola giustizia. A fronte di una testa così elevata c'è un cuore così profondo. Giulia deve rivolgere un pensiero a Ivana ed emozionata dichiara, eri diversissima da me. Tu sei la leggerezza, per me la libertà. Sono contentissima di averti incontrata. Ti voglio tanto bene, anche se non ce lo diciamo mai. Caso vuole che Ivana peschi dall'urna Giulia. La modella sottolinea come inizialmente fosse abbastanza scettica su di lei, ma poi ha capito che tra di loro poteva nascere qualcosa di bello e positivo. Luca estrae il bigliettino con il nome di Ivana. L'extronista la definisce una persona profonda e trasparente e aggiunge sei stata la persona che mi ha stupito più di tutte. Qualcosa che si trova raramente. Raffaello al di là del gioco ha voluto dedicare un pensiero al suo amico Luca ma i più credevo che quasi a 40 anni fosse possibile riaprirmi a certe emozioni della vita. Rivivere il sapore di un'amicizia di quando si era bambini. La meraviglia di sapere che c'è una persona che da lontano ti guarda e guarda se sei a posto dopo le belle parole e le emozioni. I finalisti si sono lasciati andare a un abbraccio collettivo, brindando a loro stessi. Page 2 Facebook Twitter Instagram Back to Top Grazie a tutti.